Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Tobias Smollett a Livorno di Patrizia Poli Nel secolo XVIII dimorò certamente a Montenero lo storico e letterato inglese Tobias Smollett al quale i medici avevano consigliato un clima più mite e più confacente alla sua malferma salute. Egli prese stanza nella villa Oggi dei Signori Gamba che situata in amenissimo luogo fra i poggi e il mare riparata dai venti di Greco e di Levante e quasi sulla spiaggia riuniva tutte le migliori condizioni igieniche. In questa villa, a Romantic and Salitary Abode come la chiama un biografo dell'illustre scrittore britanno, lo Smollett preparò per la stampa il bello e suave lavoro The Expedition of Humphrey Clinker che fu poi pubblicato in tre volumi nel 1771 e ricevuto con gran favore. Ancora una volta è Pietro Vigo dunque a parlarci del soggiorno livornese di Tobias Smollett, nato nel 1721 e morto nel 1771, letterato scozzese, creatore di Roderick Random e di Humphrey Clinker. Teorico del romanzo razionale, di un picaresco mitigato dal realismo, strenuo avversario del romance, da lui considerato ignorante e superstizioso, nell'ultima parte della vita, per motivi di salute, soggiornò prima a Pisa, poi a Livorno, per la precisione a Villa del Giardino o Villa Gamba, Frantignano in Monte Burrone, e qui appunto scrisse The Expedition of Humphrey Clinker. Il giardino era una residenza di origine medicea che il Piombanti attesta a possedere due sorgenti d'acqua potabile. Smollett fu sepolto nella nostra città e ancora oggi la sua tomba a Obelisco, ben visibile nell'antico cimitero degli inglesi, è una delle mete più ricercate dai turisti britannici. Tuttavia, come riportato nel sito mercantilivornesi.wordpress.com, uno scambio del 1898 fra il capitano James Buchan Telfer e il vice console britannico a Livorno Montgomery Carmichael sul periodico Notes and Queries, mette in dubbio che Smollett abbia veramente vissuto a Montenero, provvedendo piuttosto per Pisa, definendo Livorno an unattractive seaport town, ovvero sia una città portuale priva di interesse e perfino negando che vi sia davvero sepolto. Potete riascoltare questa puntata in on-demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info www.radioflash.info